Amici di Weekend Dance, ma che piacere trovare due amici miei, due amici anche vostri perché li conoscete bene Io comincio sempre per cavalleria dal sesso debole, il nome? Tina, una dei due italiani Il secondo italiano? Questa volta non mi freghi, io mi chiamo Gianni subito Ti ricordo? Ho già fregato Questa volta no, io sono Gianni e niente, questa sera ci troviamo in questo splendido complesso, questo locale Che è a partire Io già conosco Sì, è un locale molto bello, è quindi il medie eventi che ci troviamo qua a Casoria E siamo veramente contenti perché questa sera proponiamo questo live con la band nuova Ci siamo incrociati in piazza qualche mese fa e adesso è la prova club, no? Ci siamo incrociati in piazza con lo spettacolo dei due italiani music show Però questa sera ecco, visto che ci piace spaziare, ci piace fare cose nuove, abbiamo proposto questa che è una serata bellissima Ragazzi, seguiteci perché qua la storia sta crescendo Se la storia cresce bisogna seguirla Dai, dai, dai Allora, a proposito della storia, gustatevi un po' di musica, sono loro, i due italiani Ci vuole calma e sangue freddo, calma, yeah Ci vuole calma e sangue freddo, eh io, 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 io E' il momento di parlare con I due proprietari del My Day qui a Casoria Che sono? Raffaele Giancarlo E chiaramente questa sera ospitano una serata Evento con i due italiani E' una struttura che già conoscevo Molto bella che si presta per questo tipo di evento Sì, noi prettamente facciamo Salle ricevimenti Quindi feste private Però ogni tanto organizziamo anche Eventi al pubblico Aperti al pubblico E stasera in occasione abbiamo ospitato I due italiani che sono due grandissimi artisti Ci credo, dico Siamo in Italia, ospitiamo i due italiani Sì, certo Al di là di questo sono anche due carissimi amici Giannettina Sono bravissimi, bravi ragazzi E veramente fanno la loro passione E l'hanno fatta proprio diventare un lavoro E sono Una passione brava Una passione veramente innata dentro Chiaramente il My Day si presta per questi eventi Vogliamo dare dei punti di riferimento Se qualcuno volesse chiamare E chiedere ulteriori informazioni Noi stiamo a Casoria, stiamo proprio nel centro di Casoria Via Principe di Pemonte 113 Magari se ci volete seguire su Facebook È My Day Eventi Staccato Eventi Oppure sul sito www.mydayeventi.it E adesso continuiamo a guardare i due italiani Certo Buon divertimento a tutti Se bruciasse la città ... 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